Buonasera a tutti, in attesa di questa prossima stagione invernale vi presento le attività, le novità della stagione invernale e tutte le proposte della scuola italiana sci Valle Stura. La scuola uscia a sede a Testiona nel centro della Valle Stura, ma opera anche in altri centri della valle come ad esempio il zone Vinaglio. Appena che tra la nuova saranno operativi nei vari centri, abbiamo 16 maestri di sci, alcuni specializzati all'insegnamento al portatore di handicap, all'insegnamento del telemark. Le attività dalle proprie inizieranno nel mese di gennaio con i corsi il sabato pomeriggio e il sabato mattina proposti a tutti i ragazzi adulti. La stagione continuerà con le giornate bianche, proporremo come gli anni scorsi degli ottimi pacchetti per le scuole, dove il ragazzo arriva a disposizione del maestro con le varie attività che vengono programmate nell'intera giornata. Nel 9 febbraio verrà ovviamente di nuovo riproposta l'attività con i portatori di handicap per la 23esima settimana bianca riservati ai ragazzi disabili. Le attività con i ragazzi disabili inizieranno già il mese di gennaio, dove tutte le mattine verranno ospitati diversi gruppi di urni della provincia di Cuneo. La stagione si concluderà con delle piste sorprese per tutti, ma basta di aspetto alla scuola sci di festione.